Siamo a fuoco Siamo a fuoco Siamo a fuoco Hey everybody Na 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 E lei ride Ci attacca e rida, oggi sono felice Siamo tornate Da tanto tempo E siamo tornate con una challenge Per chi Dun 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 Ok no, questa challenge è vecchia Come mia nonna E' la emoji challenge Abbiamo scelto 8 emoji E cercheremo di ricrearle Saranno difficili Si Perché già la prima non so Le prime emoji è queste Con due gli occhi Allora io direi che si faccia così Eh vabbè ma se le combiniamo tesoro No Secondo Secondo Emoji Aspetta Mi devo avvicinare Se no si è Questa è la quarta emoji Si Si A Si Adesso La La Fiff La Fiff 6 è la mia preferita Questa è la settima 7 Unicorno 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 Grazie Non è che è possibile che mi hanno fatto Diccio Deve sapere perché è solo Guarda questo Il mio è diventato Il mio no E questo è Numero Questa era la nostra emoji challenge Speriamo che vi sia piaciuta Anche se è fatto un po' Così alla cavolo Commentate La vostra emoji Mettete sempre like Io ho la tua emoji E like Scrivetevi Scrivetevi qua sotto Qua sotto Subscribe Because I have to practice Practice Se vi piacerebbe vedere un video in inglese Give me a thumbs up Bye bye Bye